La qualità di vita, la sicurezza, l'indicabilità di questo panorama, la bellezza delle pereglie che abbiamo, che è l'indicabilità della verità, e devo dire che oggi è il frutto di vivere. Noi abbiamo scelto artigiani locali, prodotti locali, e per questo vogliamo far vedere tutta l'eccellenza che noi in Alto Algi abbiamo, sia di prodotti che anche di artigiani e soprattutto anche di materiali che stiamo usando. Nel 2008 abbiamo iniziato con un concetto che si chiama Cook the Mountain. Da allora abbiamo capito che è speciale questa area, e che è speciale il South Tirol è per i prodotti e per la qualità dei prodotti. La cosa speciale è che il South Tirol è sempre aperto al South, e quindi abbiamo sempre avuto molte influenze mediterranei, ma dall'altra parte abbiamo tutta la cultura e le montagne, e da dove siamo. Velle le suoi utilizzate alla strada da fare un' Luciano sociale che è fr Gombe, faceci ad un'inter volcan spazio di cui, e dove sarà riche. Chiamo talогzi